Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi parleremo di un episodio che ha scosso l'opinione pubblica, coinvolgendo uno dei volti noti della televisione italiana. Durante un servizio su Fiorello e sua figlia Angelica, il giornalista Pier Giorgio Giacovazzo, noto per il suo lavoro al TG2, ha involontariamente scatenato una tempesta di critiche e indignazione con un commento che ha lasciato tutti senza parole. Mentre Fiorello e Angelica emozionavano il pubblico con una toccante esibizione musicale a bordo di una Fiat 500 d'epoca nel programma Viva Rai 2, Giacovazzo ha pronunciato una frase che ha fatto scalpore, che carini ora questa ci avrà dolci. L'atmosfera commovente è stata interrotta da questo commento sfortunato, che ha generato una reazione immediata sui social media e ha diviso l'opinione pubblica. Mentre alcuni condannavano fermamente il giornalista per la sua insensibilità, altri difendevano Giacovazzo, criticando Fiorello per le sue azioni controverse nel passato. La situazione ha preso una piega ancora più seria quando l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, ha annunciato l'avvio di un provvedimento disciplinare nei confronti di Giacovazzo per il suo commento inappropriato. Questa vicenda ha sollevato importanti questioni sulla sensibilità dei media e sulle responsabilità dei giornalisti nell'informare il pubblico. Grazie per averci seguito fino alla fine. Se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere tutte le nostre ultime novità. Alla prossima!